ciao da lupa creazioni oggi non vi parlo di una mia creazione ma del bellissimo abito da sposa che fede morgana ha realizzato per il giorno del mio matrimonio la stilista mi ha accompagnato dall'inizio alla fine dalla scelta del modello la scelta delle stoffe e infine era lì con me il giorno del mio matrimonio per poter indossare al meglio l'abito realizzato da lei composto da due pezzi la parte di sotto è un sottogonna ricco di tulle e la parte di sopra è un bustino rivestito con il pizzo che avevamo scelto a completare l'outfit c'erano delle maniche attaccate con delle clip trasparenti invisibili che simulavano un velo ma in realtà erano delle maniche ho scelto di far realizzare l'abito da fede morgana perché è una giovane stilista ma con una grande cultura della moda e del costume è una persona empatica ma soprattutto una grande professionista una persona su cui si può contare ma soprattutto una grande amica grazie ancora grazie grazie grazie